Registrazione avviata consigliere Buongiorno Faccio io le veci? Eh sì, a questo punto lei mi deve chiedere Allora segretario se per favore procediamo all'appello, la ringrazio Sì, stiamo solo noi due E allora procedo all'appello per il verbale di oggi, 21 gennaio Consiglieri presenti, inserirlo, assente Cancilla, assente Di Pisa, assente Orlando, presente Zandazzo, assente Consiglieri, presente solo lei La saluta viene rimandata di un'ora? Sì Sì Perfetto La ringrazio Interrompo la registrazione, a fra poco La ringrazio, a fra poco Arrivederci Sì Grazie